Il sesto rapporto sentieri, come abbiamo già riferito negli scorsi mesi, traccia un quadro generale ancora contornato da dati preoccupanti e da percentuali elevate per gravi patologie sul territorio locale. Ad inizio giugno in Senato, su iniziativa del parlamentare grillino Pietro Orefice, si è tenuto un dibattito proprio sui temi del rapporto. La disamina è stata affidata ad esperti che si sono cimentati nell'approfondimento delle linee offerte dal lavoro di ricerca, un'analisi che proseguirà nei prossimi mesi. Saranno infatti organizzati appuntamenti territoriali, lo spiega proprio il Senatore Orefice. Saranno coinvolti anche altri soggetti. L'obiettivo è di sviluppare ulteriormente i temi del rapporto. Secondo Orefice, infatti, non bisogna dimenticare che per la città i numeri delineano una situazione comunque grave, sia per le patologie che per le malformazioni. L'attività dei ricercatori si è concentrata sui siti di interesse nazionale, così classificati per l'incidenza, che nel tempo ha avuto l'industria pesante. Sono soprattutto le patologie tumorali a preoccupare. Nella sezione pediatrico, adolescenziale e giovanile, così viene riportato nel rapporto, per la mortalità si registra un eccesso per tutti i tumori di età pediatrica e sull'insieme più ampio da 0 a 29 anni. Alla voce dell'ospedalizzazione invece i ricercatori indicano che in età pediatrica e pediatrica adolescenziale si osservano eccessi di ricoverati per tumori del sistema nervoso centrale e per l'infomi, ma le stime sono accompagnate ancora d'ampia incertezza. Tra il 2011 e il 2019 ci sono stati 6.145 nuovi nati ancora residenti. Sono stati osservati complessivamente 248 casi con anomalia congenita, con una prevalenza pari a 403,6 per 10.000 nati, un'evoluzione che si pone in linea con quella emersa dai rapporti precedenti. I numeri sono sicuramente allarmanti e probabilmente necessiterebbero di una maggiore attenzione istituzionale. L'orefice si è fatto promotore di iniziative culminate con il confronto tra esperti tenutosi in Senato. Non ci sono invece risposte all'interrogazione presentata all'inizio anno e rivolta al ministro della Salute Orazio Schillaci. L'esponente pentastellato chiedeva di conoscere le ragioni della mancata attuazione della legge 29 del 2019, quella che avrebbe dovuto avviare la rete nazionale dei registri di tumori e i sistemi di sorveglianza, oltre a prevedere il referto epidemiologico, un focus costante per il controllo della salute della popolazione, a partire da quella che vive stabilmente nei SIN. La legge venne approvata a proposito iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma senza che ci siano stati sviluppi pratici, una rete nazionale dei registri di tumori consentirebbe uniformità nell'analisi dei dati. Il referto epidemiologico invece avrebbe alla base una relazione scientifica attraverso la quale analizzare i dati sanitari per arrivare ad indicazioni utili e fini di una precisa programmazione sanitaria. Tutto questo però non si è ancora concretizzato.